Perché stasera sono qui? Perché voglio capire chi sono. Sì, voglio capire se sono buono o sono cattivo, perché in quest'Italia un po' confusa non lo so più chi sono. Sia chiaro, io so perfettamente chi sono, intimamente lo so. Mi è capitato, quando ho indossato i panni di un boss per arrestare i cattivi, fingendomi uno di loro, di avere autentici momenti di schizofrenia. A volte non ricordavo più se fossi Don Riccardo, il boss, o il colonnello Iannone, il buono o il cattivo, dottor Gekil o mister Hyde. Recitavo una parte, come un attore, solo che se l'attore sbaglia può ripetere la scena. L'infiltrato no, l'infiltrato se sbaglia muore. Trasformare uno sbirro in un criminale non è una cosa semplice. Lo sbirro è pagato per essere curioso, il criminale no, il criminale non deve esserlo, mai, mai fare domande. Uno sbirro, ad esempio, se vede una donna scippata, interviene, il criminale magari gode, e l'infiltrato che fa? Sta fermo? Senti Angelo, ti volevo chiedere una cosa. È capitato, ti è capitato che qualcuno capisse che era infiltrato? Cioè hai rischiato, si rischia, l'infiltrato rischia? Beh, intanto diciamo, Teresa, che c'è un momento in cui comunque sapranno chi sei. Cioè c'è un momento in cui loro capiscono che tu sei un colonnello dei Carabinieri. Poi ci sono i processi, le testimonianze pubbliche, piene di avvocati, di testimoni, amici di amici, eccetera, eccetera. Le reazioni, ecco, le reazioni sono interessanti. Quando scoprono chi sei, le reazioni sono delle più strane. Per esempio, in una delle indagini di cui parlo nel mio libro, ad un certo momento decido di farmi arrestare con due di loro dai miei collaboratori. Poi una volta... Con due dei narcotrafficanti? Una volta in caserma io dismetto i panni del boss e mi siedo dietro la mia scrivania. Ecco, uno di loro pensava di essere a scherzi a parte. Poi ha capito e quando ha capito, molto elegantemente ha detto Vabbò, a raprimo stu verbal e ha cominciato a collaborare. Prima di essere portato in carcere ammanettato, mi si è avvicinato e con altrettanta eleganza ha detto Comunque, colonnello, è stato un vero onore. Non a tutti capita questa fortuna perché ad un mio maresciallo, per esempio, invece un trafficante andranghettista gli si è avvicinato ammanettato prima di finire in carcere e fingendo di dargli un bacio sulla guancia, in realtà gli ha sussurrato nell'orecchio semplicemente Robè, sei morto. Perché hai iniziato dicendo se stasera sono qui e perché voglio capire se sono buono o sono cattivo? Perché questo dubbio? Sì, perché vedi Teresa, io molti anni fa da adolescente, con lo spirito dell'adolescente, ho scelto di essere dalla parte dei buoni. A 16 anni ho scelto la scuola militare Nunziatella, come per esempio Sergio De Capri, oggi noto come capitano ultimo. Poi ho fatto parte, a 27 anni sono stato catapultato a Corleone come giovane capitano, davo la caccia al capo De Capri. Ho fatto con orgoglio parte di quella che per un certo momento è stata considerata l'élite dell'investigazione italiana, il rosso. Ho avuto comandanti come il generale Mario Mori, come il generale Giampaolo Ganze, ho avuto colleghi come il colonnello Mauro Bino, come ultimo appunto, e tanti altri noti e meno noti, ma tutti altrettanto bravi. colleghi, capi, fratelli direi, compagni, senza inseguire la popolarità, il consenso, ma solo perché ritenevamo di essere dalla parte giusta, coraggiosi, ma io direi più incoscienti, più che coraggiosi. Ma volevamo semplicemente guardare, poter guardare negli occhi i nostri figli e i figli dei nostri figli, come diceva il generale Carlo Alberto dalla Chiesa. Adesso sono passati degli anni e questo gruppo di investigatori che venivano considerati appunto l'eccellenza dell'investigazione italiana in parte si è dissolto. Morti, ammazzati? No. Tanti feriti. Feriti però nell'onore. Chi accusato di aver travalicato i limiti in delicate operazioni di narcotraffico? Chi addirittura di aver trattato con Cosa Nostra? Chi di aver favorito boss mafiosi, capi di Cosa Nostra? Ma il ROS ha arrestato Totorina? Ancora nessuna condanna definitiva, per carità, ma il problema è che ci sono stati tanti, troppi processi mediatici in cui tutto è già stato dato per scontato. E quindi per questo io adesso mi chiedo ma noi non eravamo i buoni? Il generale Mori imputato a Palermo con Totorina? È come se mi dicessero che Gesù Cristo è finito all'inferno. È tutto questo, Teresa, mentre figli di Bossi invece vengono portati sui palchi come icone e testimonial dell'antimafia. Ecco perché io mi chiedo ma allora io con chi stavo? Con i buoni o con i cattivi? E mi chiedo ancora allora ma siamo in Italia? perché a volte io penso di no io penso forse siamo a Panama e come nel celebre film Il sarto di Panama qui siamo a Panama e nessuna buona azione rimarrà impunita a lungo.